E' una cosa che non mi è mai successa, neanche una sola volta nella vita. Una concezione un po' estensiva dell'immunità, lui pretenderebbe l'immunità telefonica non soltanto per sé, ma anche per tutti quelli che lo conoscono, una forma di immunità contagiosa. Appena giunge notizia che ha indagato per la mala gestione della sanità regionale, due anni fa viene a smettere di fare l'assessore. Adesso noi stiamo prestando non solo il nostro territorio, ma stiamo pure usando i nostri aerei per atti ostili contro il regime libico che ci eravamo impegnati a lasciar fare come cazzo gli pareva, immaginate che daffi!